Ieri era il giorno dedicato a Dante Alighieri del Ministero del MIBAC e noi non abbiamo fatto nulla ancora. Potremmo anche farle oggi, anche se in ritardo, però io non ho idea, voi avete idea? No. Non lo so, potremmo anche fare un'immagine, uno stance dicevi tu prima, potremmo realizzare un'immagine al volto di Dante qui. Potremmo leggere un canto. Un canto di cosa? Della Divina Commedia. Ma no, non mi va di fare letture. Oppure potremmo fare come ha fatto Franco Ferrante, vedi? Cosa ha fatto? L'inferno di Dario. No. Mi ha messo il cammino di vostra amica. Mi trovai in una selva oscura.